Una chiave speciale, la chiave di Casa Sanremo, è stata consegnata da Madeus, conduttore del settantesimo festival della canzone italiana. A realizzare l'opera è stato il maestro orafo Michele affidato e impegnato in questi giorni con la consegna di diversi premi. La preziosa chiave è stata realizzata in argento con laminature in oro e zaffiri. Nell'iconografia generale la chiave è simbolo dell'apertura di casa, in questo caso di Casa Sanremo, la casa del festival che come ogni anno realizza con successo diversi eventi legati alla Kermess. L'opera può essere considerata una novità assoluta, realizzata per la prima volta e consegnata direttamente nelle mani del conduttore del festival che sta facendo registrare un enorme successo di critica e pubblico. Ho avuto il piacere di essere presente alla consegna della chiave insieme al patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, afferma Michele affidato. L'opera è stata particolarmente apprezzata da Amadeus e per noi questo è l'ennesimo motivo di orgoglio. Intanto è tutto pronto per il gran finale del festival in cui saranno protagoniste altre opere del maestro affidato. Al termine della serata clou infatti verrà assegnato il premio della critica Mia Martini, realizzato sia per la sessione campioni che per nuove proposte. Una particolare scultura che raffigura a una chiave di violino con dei fiori e il leone simbolo di Sanremo e di Michele affidato è anche il premio Sala Stampa Lucio Dalla che viene assegnato agli artisti in gara dai giornalisti radio, web e tv per entrambe le sessioni. Infine verranno svelati i nomi dei due artisti che si sono aggiudicati il Soundist Award per il miglior videoclip della canzone in gara, un riconoscimento per la creatività sprigionata attraverso i video che rappresentano in pieno i testi e la musica dei brani proposti tra le categorie dei campioni e delle nuove proposte.